Hanno stirato un documento di rivendicazione e di richiesta che abbiamo esaminato ad uno ad uno nel corso di un lungo incontro. Io ho assunto gli impegni, le cose che competono alla Regione. Alcune di carattere amministrativo le sblocchiamo. Vediamo di intervenire, ha cominciato dal settore delle riscossioni con Serit, poi Crias. Si lamentano ritardi, vedremo di che si tratta perché questo dipende da noi e alla nostra portata. Si parla sempre di un disegno di legge che portiamo subito in assemblea, anzi credo che in assemblea ci sia già e ne sollecitiamo la trattazione in aula relativo al commercio. La materia del commercio è fondamentale perché le tematiche poste riguardano sia la produzione che i trasporti. Quindi le cose di interesse regionale e poi un confronto che ho chiesto per iscritto al Presidente del Consiglio dedicato esclusivamente a questo argomento. Il costo dei carburanti, le autostrade, i traghettamenti. Io, da Presidente della Regione, devo dirvi con una sensibilità autonomistica, se volete, particolare, mi metto immediatamente al lavoro. Anche perché è un movimento ed è un'iniziativa che non trova esclusiva rappresentanza né in una persona né in un gruppetto di persone. Ormai è un fenomeno che si muove in misura tale per cui il mio appello è rivolto a tutti gli interessati, certamente direttamente e quanti chiaramente credono in quel tramite anche attraverso coloro i quali ci hanno ascoltato.